Primi mal di pancia nella coalizione di centrosinistra che sostiene Piero Castrataro. Il malessere affiore in esponenti dei 5 Stelle e sinistra italiana, soprattutto dopo la mancata elezione di Sara Ferri, esponente storico della sinistra isernina, al Consiglio Provinciale. Per una piccola, piccolissima percentuale, la Ferri è rimasta fuori dall'emiciclo di Via Berta. In rappresentanza del Comune di Isernia sono entrati un esponente di Isernia Futura, Claudio Falcione, ed una del PD, Angela Perpetua. E così sono partiti i primi distinguo e segnali di malessere. Chi e perché vuol tenere fuori sinistra italiana, uno dei partiti che ha contribuito alla vittoria di Castrataro? Una domanda che non coinvolge solo la provincia, dove la Ferri non ce l'ha fatta, ma anche il Comune, dove il sindaco ha tenuto fuori dalla giunta l'esponente di sinistra italiana. Oltretutto oggi c'è il sapore della beffa perché la mancata elezione di Sara Ferri è arrivata insieme al comunicato stampa in cui Leda Ruggiero, assessore esterno della giunta a Castrataro, viene indicata anche tra i dirigenti molisani di Azione, partito di Carlo Calenda, che da poco ha celebrato il suo primo congresso regionale. Insomma, considerati i pessimi rapporti tra Calenda e Grillini, ma soprattutto tra Calenda e sinistra italiana, c'è qualcuno a sinistra che si sta ponendo delle domande sulla nomina in giunta di Leda Ruggiero al posto di Sara Ferri. Domande a cui il neosegretario provinciale di Azione risponde così. Significa che il sindaco Castrataro ha voluto inserire all'interno della giunta un suo collaboratore, ma in questo caso non ha sicuramente una valenza politica, è esclusivamente un aspetto tecnico. La dottoressa Ruggiero evidentemente ha delle specifiche competenze nel campo delle politiche sociali e quindi il sindaco giustamente ha ritenuto di inserirla all'interno della giunta. In sostanza, sostiene Giulio Castiello, c'è una netta divisione dei ruoli. Quella di Leda Ruggiero è stata solo una scelta tecnica e professionale e non politica. Né Azione appoggia o ha intenzione di appoggiare politicamente la maggioranza di centrosinistra che governa Isernia. Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, io rimango sorpreso che alcuni gruppi politici che hanno sempre rivendicato appunto una forma diversa di politica possano fare riferimento a questo aspetto. Leda Ruggiero è stata nominata quando già faceva parte di Azione, non è che è entrata successivamente. E ripeto, ritengo che il sindaco Castradaro ha anche in qualche maniera voluto rompere proprio questi schemi che sono troppo eccessivamente politici perché lui è chiamato ad amministrare la città. Quindi la politica è una cosa, tant'è vero che Leda Ruggiero non si è candidata e poi la parte amministrativa è un'altra. Ci sono altri esponenti di Azione che hanno scelto di candidarsi e non fanno più parte di Azione, almeno per quanto riguarda l'aspetto dirigenziale.